Frey Occasioni La scelta sicura dell'autocentro Emil Frey di Noranco per chi non scende a compromessi ed esige qualità e prezzo anche nell'usato. Una vasta scelta di vetture rigorosamente selezionate e preparate secondo altissimi standard di qualità. Accurati controlli e prove tecniche eseguite dai nostri specialisti con le più moderne attrezzature garantiscono una vettura sicura ed affidabile e la massima soddisfazione del cliente Frey Occasioni. Solo le migliori diventano Frey Occasioni e sono certificate dall'esclusiva garanzia Frey Occasioni Platino e dalla copertura Frey Assistance gratuita in tutta Europa 24 ore su 24. Frey Occasioni perché solo le migliori diventano Frey Occasioni.